Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Rainbow Six Siege vi mostrerò un glitch spot nella mappa chalet che si trova in questa stanza dove c'è il camino praticamente. Come potete vedere si sale qui in alto come una volta. Infatti questo è uno spot glitch che era già presente, solo che si saliva qui in alto in modo differente. Adesso è tornato però non avrete bisogno dello scudo o dello scatto da quella posizione. Ma come vi ho mostrato è molto semplice, vi avvicinate qui praticamente e dovete trovare il punto esatto che vi permette di scavalcare che è questo, vedete? Tra il camino e la legna. Fissate la legna e salite. Una volta che siete saliti ovviamente rompete questo vaso, dopodiché scavalcate e vi ritroverete qui in alto. Quindi potrete eliminare i nemici che provengono da quella direzione oppure da questa avendo un buon riparo.